Il problema della cessione dei crediti fiscali non colpisce solo l'impresa, ma sta mettendo in ginocchio anche i tanti professionisti che hanno svolto prestazioni in questi ultimi due anni, senza percepire somme di denaro in cambio di crediti che ora né banche né assicurazioni accettano di scontare. Una situazione che si è aggravata dal contemporaneo stallo delle pratiche della ricostruzione Sisma 2016, abbinate al super bonus 110%. Per rispondere a questo grido d'allarme, l'ordine dell'ingegneri di Teramo ha siglato un accordo con quello dei commercialisti per incrociare domande e offerta di crediti maturati e incagliati tra i rispettivi iscritti. L'ultimo decreto cessioni di febbraio che praticamente ha bloccato oramai la cessione dei crediti per tutti e di conseguenza molte aziende e soprattutto molti professionisti hanno lavorato tantissimo ma non riscuotono i compensi. E allora si è pensato a questa soluzione con i commercialisti che noi ringraziamo per far incontrare quella che è la domanda e l'offerta. In sostanza, chi ha la possibilità, perché dispone di una liquidità economica, di acquistare questi crediti e allo stesso tempo fornire liquidità ai tecnici professionisti che hanno questi crediti. Quindi da una parte si cedono i crediti e dall'altra parte si acquisiscono. I vantaggi stanno un po' da tutte le parti perché chi cede ovviamente concretizza quella che è la parte dei compensi e chi dall'altra parte chi acquista i crediti magari ha la possibilità dal punto di vista fiscale. Attraverso moduli ad hoc e predisposti dai due ordini ogni iscritto potrà mettere in vendita i suoi crediti o avanzare richieste d'acquisto. Ovviamente dobbiamo comunque stare sempre attenti a mio avviso quindi bisogna sempre prenderle con le monde. Noi saremo garanti in questo senso che ci attiveremo nell'uno e nell'altro caso anche per vedere se ci possono essere problemi di usura perché è chiaro che se ho un credito di 100 e lo vendo a 50 bisogna vedere in effetti la normativa e bisogna starci molto attenti. Noi vogliamo dare questo contributo alle nostre imprese soprattutto nel settore terramano che in effetti soffrono per questo purtroppo problema. Il termine ultimo però è marzo. Sì entro marzo in effetti la prima tranche deve essere se no purtroppo dovranno portarsi in detrazione come crediti e ovviamente i tempi sono biblici e quindi le imprese che hanno praticamente sborsato numerose somme per realizzare questi interventi si trovano in grosse difficoltà per pagare i loro fornitori.